Nell'ambito dei festeggiamenti dell'ultimo sabato di carnevale, anche la città di Feltri ha voluto offrire uno spettacolo d'eccezione ai suoi cittadini, ospitando la sfilata dei carri mascherati in centro, lungo le vie 31 Ottobre e Largo Castaldi, per arrivare sino in Piazza Isola, dove si è svolto anche lo spettacolo finale. Un grande evento reso possibile grazie allo sforzo dell'amministrazione comunale di concerto con il comitato Feltre DOP, il consorzio turistico Dolomiti Prealpi, nonché la Prolocco di Sedico. Dopo 30 anni tornano a Feltre i carri mascherati, oltre 10.000 persone presenti oggi, con grande soddisfazione dell'amministrazione comunale, ma anche assieme a noi le sinergie, la rete fatta con tutti gli organizzatori. Un'iniziativa che, richiamando molte persone, di certo è stata utile anche per gli operatori commerciali del centro e in generale per il turismo del territorio. Siamo arrivati con tre carri, siamo arrivati, sono venuti dal Prolocco di Sedico, per noi è stata una grande gioia vedere tutta la gente che ha detto appena l'assessore, ma una grossissima soddisfazione, non ce l'aspettavamo tutta questa gente veramente, il paese ha risposto benissimo e speriamo che la seconda edizione vada molto molto meglio della prima. Grazie!